benvenuti a un caffè con un caloroso saluto al nostro ospite di oggi l'amico furio pietribiasi ciao furio buongiorno ciao stefano un saluto a tutti furio amministratore delegato di mediano international fans in irlanda e presidente del consiglio di amministrazione di soldo nonché esperto di finanza e di economia in generale oggi con te furio parliamo del mondo bancario e dell'asset management in questo momento stiamo vivendo un periodo molto particolare della storia sia in italia che anche in europa nel mondo quali sono secondo te qual è il tuo punto di vista sulle misure intraprese dai governi e dalle banche centrali guarda stefano stiamo vivendo un momento che sicuramente ha preso tutti di sorpresa anche perché come abbiamo vissuto tutti come stanno vivendo tutti i paesi viene affrontato con con una ciclicità molto diversa in tempi molto diversi quindi ogni singolo paese si è trovato più o meno preparato ad affrontarlo chiaramente la cosa più preoccupante l'impatto economico perché se andiamo a pensare le stime dell'ocd che prevedono che l'unica economia probabilmente che avrà crescita economica piccola molto piccola ma avrà crescita economica e la cina in tutto il mondo stiamo parlando di un evento che non abbiamo mai visto neanche in tempi probabilmente di guerra detto questo però è altrettanto vero che abbiamo visto i governi e soprattutto le banche centrali dove prima fra tutti gli stati uniti che hanno intrapreso delle iniziative mai viste prima ci sono delle stime sul mercato che parla di una perdita di prodotto interno lordo a livello globale intorno ai 7 gli 8 triliardi di dollari e stiamo parlando se andiamo a sommare tutte le misure gli interventi delle banche centrali e dei governi in termini politi fiscali e di aiuti finanziari stiamo parlando di interventi più o meno della stessa cifra quindi sicuramente sulla carta chiaramente sono sembrano interventi assolutamente commisurati in realtà poi evidentemente il i tempi per questi interventi materializzarsi all'interno delle diverse economie all'interno di diversi paesi che ovviamente hanno delle infrastrutture amministrative molto diverse prima fra tutte l'italia comparato a paesi più piccoli per esempio come l'irlanda dove vivo io che quindi hanno delle strutture amministrative più semplici ovviamente richiederanno dei tempi diversi ma io sono assolutamente positivo per quello che è il nostro futuro nonostante abbiamo trovato un momento difficilissimo sicuramente stiamo vivendo un momento difficilissimo sicuramente le misure e i passi necessari per uscirne sono stati fatti certo secondo te c'è il rischio che l'italia possa essere preda di acquisizioni magari anche di asset strategici da parte dell'estero beh guarda la realtà è che come come sempre quando ci sono delle crisi e quando ci sono c'è volatilità nei mercati chiaramente le aziende solide e meno solide soffrono tutti i prezzi di queste aziende soffrono tutti evidentemente è un rischio in tutto il mondo evidentemente l'italia che ha grandi aziende e delle eccellenze tra queste grandi aziende corre un rischio come corrono tutte le altre aziende del mondo però abbiamo anche visto che comunque la ripresa dei mercati che è stata molto rapida e anche per quanto mi riguarda molto sorprendente se guardiamo i tempi perché abbiamo visto una violenza nella volatilità e una perdita e un depreciamento delle valorizzazioni di borsa che non avevamo mai visto prima nel giro di due settimane la volatilità sia addirittura quintuplicata però altrettanto abbiamo visto che alcune di queste aziende nel mondo e in italia comunque hanno recuperato con tempi altrettanto veloci quindi il rischio c'è sempre però diciamo che secondo me con questa ripresa diventerà sarà equivalente sarà meno semplice di come può essere stata come di quello che poteva essere prima durante il picco della crisi sai che io ho un po il pallino della governance secondo te quanto è importante una buona governance nella gestione degli asset strategici beh sta diventando un tema sempre più importante soprattutto se pensiamo al tema della sostenibilità e soprattutto se pensiamo a quella che è la nuova implementazione della nuova normativa europea con la tassonomia con riferimento ai nostri nuovi criteri ISG dove chiaramente la gista per governance sta diventando sempre più importante e che andiamo a vedere anche come queste società che danno i rating ai singoli titoli alle singole società il tema di diventa particolarmente importante su società come evidenziavi tu che sono possono essere degli asset strategici che possono avere un impatto importantissimo dal punto di vista sociale per un per un paese o all'interno di un economia di un settore e via dicendo quindi io sono assolutamente d'accordo che debbano essere fatti dei passi avanti e penso che sempre di più anche da un punto di vista di vigilanza di autorità di vigilanza ci saranno dei paletti ben definiti ad oggi l'Europa ha dato paletti ben definiti e molto chiaro per quanto riguarda l'aspetto più climatico quindi all'interno dei parametri relativi al climate change e con la tassonomia i prossimi passi sarà entrare sempre più nel dettaglio anche di quella degli elementi di governance che detteranno sempre di più anche gli indirizzi investimenti dei grandi investitori globali del mondo quindi diventerà inevitabile da parte delle aziende di doversi adeguare ovviamente sarà un percorso dovremmo farlo nel tempo ma sicuramente rimarrà una priorità per tutti certo secondo te quali sono le prospettive di medio termine per il settore dell'asset management settore bancario ma guarda secondo me il trend che abbiamo già visto prima e che prima del covid pre-covid sia nel mondo bancario che nel mondo dell'asset management continueranno a permanere rimarranno sempre gli stessi sicuramente questo covid li ha accelerati due esempi fra tutti da toccare rapidamente se pensiamo per esempio al settore bancario l'aspetto digitale del settore bancario se pensiamo a come i clienti accedono ai servizi bancari se pensiamo ai pagamenti a cashless ai pagamenti quindi non paper payment quindi proprio digitali veri e propri digitali e pensiamo a quel trend che era cominciato era diventato sempre più importante inevitabilmente ci sarà un'accelerazione e quindi le banche continueranno sempre di più a spingere sulla loro agenda di trasformazione digitale o con trasformazioni interne se se le possono permettere o collaborando con altre società e queste famose start up che poi in realtà start up non lo sono più perché sono molte di queste società con degli debiti da molto solidi per riuscire a dare migliori servizi ai propri clienti e oltre a questo come menzionavo secondo trend che io vedo per esempio nel settore bancario la continua attività di consolidamento che diventerà inevitabile perché per rimanere competitivi nel settore bancario sarà necessario continuare a fare investimenti straordinari per riuscire ad affrontare questa trasformazione e quindi come dicevamo prima alcuni riusciranno a farli perché hanno la dimensione per farlo altri invece dovranno inevitabilmente aggregarsi nel mondo dell'asset management gli effetti sono simili il primo fra tutti è quello del consolidamento evidentemente abbiamo visto una grande attività di di consolidamento negli ultimi anni che continuerà e accelererà sempre di più ovviamente con questa volatilità per molte aziende è stata fatale perché hanno perso patrimoni non solo in termini di valorizzazione quindi di proprio effetto mercato ma anche in capacità di aver di mantenere i propri investimenti da parte della propria clientela e quindi anche queste società purtroppo non dovranno si troveranno sotto pressione da un punto di vista di margine e quindi inevitabilmente dovranno ricorrere a dei consolidamenti e quindi dal mio punto di vista stiamo andando in verso dei settori in grande trasformazione in miglioramento perché bisogna dire che è una trasformazione in miglioramento soprattutto per la clientela finale e non sono particolarmente preoccupato da un punto di vista anche di dal punto di vista del consumatore perché comunque l'offerta del mercato i player sul mercato sono tantissimi rimaneranno ancora tantissimi e quindi la scelta per i clienti sarà ancora ampissima e soprattutto anche da un punto di vista di pricing vedo che nel tempo ci sarà un miglioramento sempre in termini di qualità ma anche di costo per la clientela Bene, mi fa molto piacere vederti ottimista e pronto nella visione di nuove prospettive questo mi fa molto piacere Beh, sai, come business leader, come manager di azienda non possiamo che essere ottimisti perché è inevitabile, perché dietro a qualsiasi momento difficile si sono sempre presentati grandi cambiamenti e opportunità enorme per le aziende ma anche per le persone quindi bisogna guardare avanti, guardare quello che c'è di positivo e cercare di capire come poterne approfittare dando il meglio ai nostri clienti Fantastico, allora tanto ti ringrazio del tuo tempo e magari ci risentiamo fra qualche mese e facciamo un aggiornamento per vedere tanto le tue previsioni di solito per esperienza, ti conosco da anni, sono sempre azzeccate quindi sarà un piacere rivederci e risentirci ancora con qualche nuovo aggiornamento Un grande piacere, grazie Stefano e un saluto a tutti e grazie dell'attenzione Grazie a tutti, buona giornata